Sono Giorgio Balduzzi, siamo qui a Terra Futura, siamo come consorzio Terra di Loppiano, siamo un consorzio insediato nel polo Lionello Bonfanti e in Cisavaldarno. Il consorzio raggruppa una serie di aziende che lavorano e partecipano al progetto etico dell'economia di comunione. Siamo circa 17 aziende di tutta Italia, tra cui alcune aziende biologiche e partecipiamo a questo progetto tutti insieme.